Si riaccende una luce sul delitto per adesso avvolto nel più completo mistero di Nicola Bucco, l'operaio 53enne assassinato a coltellate nel suo appartamento di Via Leopardi, a due passi dal porto di Pescara il 14 novembre del 2012. Una lettera anonima recapitata il primo dicembre ad uno degli avvocati della famiglia Bucco fornisce una serie di indicazioni su tre individui che potrebbero essere coinvolti nell'omicidio. Nella lettera si fa riferimento a due persone molto alte residenti nella zona dell'omicidio che frequentavano sia Casa Bucco che il cosiddetto baretto, ovvero il locale del porto canale finito al centro delle indagini. L'anonimo indica anche una terza persona con barba e capelli lunghi, descritto come un tipo rozzo che, come gli altri due, avrebbe frequentato sia Casa Bucco che il bar. Su questa terza persona, inoltre, che ha scritto la lettera anonima ha fornito un ulteriore dettaglio che potrebbe risultare molto utile alle indagini, cioè il luogo di lavoro, spiegando che da quando è successo il fatto non si è più visto. La lettera è stata recapitata in busta chiusa e dunque il primo passo degli inquirenti sarà sicuramente quello di cercare eventuali tracce e impronte che consentano di risalire al mittente. A fine novembre in tribunale a Pescara c'era stata l'udienza per discutere la richiesta di archiviazione presentata dal EPM Gennaro Varone. Il GIP Nicola Colantonio si era riservato di decidere, ma a questo punto è possibile che le indagini vengano riaperte, accantonando così la richiesta della procura adriatica. I legali della famiglia Bucco, Alberto Faccini Caroppo ed Enrico della Cagna, si sono sempre opposti alla richiesta delle PM, denunciando lacune nelle indagini e chiedendo che venissero svolti ulteriori approfondimenti.